Dopo 4 anni e 2 mesi si riaccendono le luci all'interno dell'area portuale, un atto dovuto verso la città, ma un atto dovuto anche all'impegno politico nato in Consiglio Comunale che per anni si è battuto per questo evento e poi a seguito di diverse traversie di carattere burocratico si concretizza solo oggi. Vincenzo Stuliano, Presidente del Consiglio Comunale, un traguardo raggiunto? Un traguardo sicuramente raggiunto che sicuramente la città meritava perché da diversi anni ormai eravamo in una situazione, secondo me, ingresciosa che non ha nulla a che vedere spesso con uno stato di fatto di diritto. Quando un comandante della quinta città della Sicilia, della sessantesima d'Italia, si vede quasi costretto a chiudere un porto solo perché manca l'illuminazione e nulla si muove, diventa veramente un fatto su cui non si può tranquillamente tacere ma bisogna alzare la voce. Di questo sicuramente bisogna ringraziare chi ha vissuto veramente in prima persona questo problema e l'ha portato all'attenzione, quindi della città, del Consiglio Comunale stesso. Quindi un ringraziamento va all'amico Davide Parnello che fa parte del nostro gruppo che ha sollecitato in maniera insistente questa iniziativa e in modo particolare all'onorevole Ruggedello che ha seguito l'iter fino alla fine e grazie a un suo intervento sono stati recuperati 190 mila euro che erano stati già spostati e persi. Quindi va dato meldo sicuramente a chi è intervenuto ed è stato vicino alla città di Marsala. Lei è deputato quest'ora della regione Sicilia, come mai le pastorie burocratiche rallentano tutto nella nostra regione e se non ci fosse stato il suo intervento magari oggi non saremmo qui a rieinaugurare l'illuminazione pubblica nel porto? Più che altro ci sono molti interventi da fare nel nostro territorio, nella regione Sicilia che ovviamente essendo un'isola poi con i porti ha molto a che fare. Non tanto sono i soldi che vengono a essere ogni volta stanziati per recoprire tutte le manchevolezze o le difficoltà che ci sono in ogni porto. Su Marsala è un momento, è un episodio che ci siamo trovati ovviamente ad affrontare, è stato importante da parte delle istituzioni, la collaborazione netta e profonda. Un primo ovviamente importante intervento che ringraziando la Capitaneria di Porto di Trapani e il Genio Civile di Trapani che ha dato la possibilità ovviamente di mettere in atto subito un sopralluogo e aver verificato quelle che potevano essere le esigenze di un progetto che sicuramente è molto più ampio e molto più costoso quello che si doveva affrontare. Ma abbiamo mandato subito di intervenire perché ci sia intanto dal primo intervento la necessità di dover dare l'illuminazione ad un porto importante per l'autonomia locale e per tutto quello che si può fare. La persona ovviamente che ci ha assistito a tutto questo è il direttore Fulvio Bellomo che anche lui lo ringrazio di persona perché è stato solerte e ha attivato subito nelle procedure d'urgenza quello che era un'esigenza che si è resi conto che voleva la cittadinanza ma volevano soprattutto tutti coloro i quali ci lavorano e quindi le varie marinerie locali e tutti i diportisti. Un blackout durante 4 anni e 2 mesi che ha costretto i comandanti che l'hanno preceduta e mette anche ordinanze di vieto di accesso al porto anche per gli stessi operatori alle ore notturne. Oggi si accende la luce e quindi cosa rappresenta per il mondo della pesca e delle attività marinari in genere? Con oggi si ristabilisce finalmente la piena sicurezza del porto non solo di giorno ma anche nelle ore notturne e con esso anche la piena operatività di un porto. Il porto è una realtà che deve rimanere viva 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno e il fatto che invece le attività commerciali fossero limitate ad un'attività dall'alba al tramonto costituiva un grosso problema. Finalmente una volta che verranno collaudati questi lavori e verrà stabilito che finalmente le condizioni di sicurezza siano rientrate a quelle che erano prima, il porto potrà dirsi pienamente operativo come l'era una volta. Questo è un grande obiettivo e credo che in queste circostanze le organizzazioni regionali, le istituzioni regionali e comunali abbiano lavorato in maniera solerte e sicuramente efficace. Oggi è un grande evento anche per voi che siete operatori del porto, lei che opera nel mondo anche del turismo, del certo aeronautico, questa possibilità di poter lavorare anche nelle ore solare notturne e penso farà tanto per la sua attività. Io sono un operatore del porto e ringrazio per l'intervento l'onorevole Paolo Ruggerello che su mia sollecitazione da parte di tutti gli operatori della pesca, sia piccola pesca che grande pesca, ha permesso l'accensione delle luci del porto di Marsala. Una grande occasione sia per i pescatori che per gli operatori ma anche per gli operatori turistici in quanto la sera non si poteva operare per le luci spende. Da questo 2016 lo inauguriamo anche con nuove prospettive per il turismo come le mini crociere serali che provvederemo a presto a poter utilizzare nella città di Marsala.